ragazzi siccome mancavano le teste no è una battuta abbiamo talmente tante teste di guadino da tutte quelle gommate tutte quelle nylon l'ultima uscita quindi milo ci ha regalato una testa veramente particolare perché è una testa in lattice naturale è la latex net che caratteristiche ha a una robustezza eccezionale un elasticità preserva i pesci perché naturalmente lattice e anche oggi che abbiamo fatto una pescata sulle brem non ha problema con il muco delle brem infatti dopo una pescata dove ci sono andati a finire dentro 40 50 brem abbiamo la testa completamente pulita e i pesci diciamo sono stati preservati al cento per cento quindi ultima novità di casa milo abbiamo anche una testa in lattice naturale grazie a tutti grazie a tutti